La cantante che si esibirà il Lady Gaga Ragazzi un applauso! Allora io voglio ringraziare Francesco che è fan di Lady Gaga Quindi diciamo che è anche il primo fan di Castelverde Primo? Sì, il primo fan Cioè il fan numero uno si dice Le canzoni eso, il balletto lo so La canzone è mia eh Sì, quale ti piace più da Lady Gaga? Vabbè la prima gliela dedichiamo Ragazzi, allora ragazzi io vi invito a venire davanti Capito? Avvicinatevi, mi fa piacere venite tutti davanti Fate casino, venite tutti davanti Allora intanto io ringrazio l'organizzazione LaniSand Diego, Francesco, tutti voi che siete qui Che mi ha fatto piacere che siete venuti Ciao! Ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti